Altro incontro con Giovanni Matera. Giovanni Matera, imprenditore, titolare della Matera Arredamenti, ne è il creatore, grosso esperto di marketing, di corsi di formazione e quindi proprio per queste sue caratteristiche, per questo patrimonio di conoscenze di cui è detentore, stiamo facendo questi incontri divulgativi, perché poi queste lezioni le mandiamo in onda, in televisione, sul web, ma sarebbe bello anche diffondere nelle scuole delle pillole che sarebbero di stimolo per le nuove generazioni. Il capitolo, l'argomento che trattiamo oggi è appunto quella, la necessità di essere fermi, di credere fermamente in qualcosa e decidere, la capacità, la necessità di decidere. Quante volte ci siamo detti, non posso, non ce la farò mai, come posso farcela? Invece ci dobbiamo buttare senza riserve e senza paura e quando si crede in una cosa, quando uno crede in qualcosa, in una cosa è decidere di farla. È l'atto della decisione. Decidiamo di fare questa cosa, decidiamo di intraprendere questo cammino, decidiamo di lanciare, di fare questa sfida e poi le cose accadranno da sé, verranno da sole. Intanto bisogna dire che, partire da un principio, che se noi al cervello gli mandiamo il messaggio questa cosa non ce la farò, noi abbiamo detto no al cervello e quello ci ubbidisce. Abbiamo detto che quella cosa non riuscirò mai a farla e lui si adegua e non fa quelle azioni per farmi poi fare quella cosa, perché io ho detto no. Se invece dico come posso fare quella cosa, il cervello un secondo dopo già si attiva, perché gli ho detto come, la parola magica è come, come posso fare le cose. Però non basta solo questo, noi sappiamo benissimo che un obiettivo cos'è in effetti? È un desiderio con scadenza. se l'obiettivo è volere quella cosa, stabilirla, stabilire quando e come farlo quella cosa, quindi non è più voglio dimagrire di 15 kg, non sto dicendo niente, voglio dimagrire di 15 kg in 15 giorni o in 10 giorni, beh, quello è un obiettivo, perché stai prendendo una decisione. Noi vogliamo fare tante cose, le diciamo, le professiamo, le raccontiamo all'amico, però quando veramente facciamo le cose? Quando prendiamo la decisione? Nel momento in cui abbiamo preso la decisione, voglio fare più fatturato in azienda, non sto dicendo niente, è un semplice desiderio. Quest'anno io farò un milione di Euro di fatturato, allora io ho deciso e quella decisione è stata già captata dal mio cervello e quello si mette in azione e non è un caso se io, dopo aver detto quella frase, comincio a fare delle azioni affinché io raggiungo quel fatturato. Se invece io rimango a vorrei, il cervello non si muove nemmeno, il cervello dice decidi, la volta che hai deciso, ci penso a me, comincia a lavorare per te. Ed è sempre quella frase che ho detto in altri corsi, che quando tu vuoi fortemente quella cosa è come se l'universo cospira affinché tu la realizzi, è come se una serie di cose si mettono in movimento intorno a te, però il successo di una persona è l'atto della decisione, dobbiamo decidere, nel momento in cui decidiamo vuol dire che vogliamo veramente quella cosa e riusciremo prima a ottenerla.